Adesso qua inizia il tema dei lifetimes, ovvero di quanto lungo vanno a vivere le variabili in rastro. Questo è un esempio abbastanza canonico in questo ambito. Abbiamo una funzione longest che prende due variabili, una x e una y. Le prende come string slice, quindi come riferimenti a stringhe. E poi va a ritornare a quella più lunga. Quindi la stringa 1 sarà per esempio una stringa da vicino, la stringa 2, la stringa 3, la stringa 3, la stringa 3. Il risultato sarà la più lunga fra le due. Il problema è, visto che la funzione prende le stringhe come riferimenti a stringhe, quindi non le possiede, ma semplicemente delle reference, e non sappiamo quale verrà ritornata dalla funzione, non sappiamo quando possiamo eliminare una o l'altra perché quella che viene ritornata deve continuare a esistere l'altra invece potrebbe essere scartata e anzi rischiamo di scartare quella che vogliamo ritornare alla funzione perché la funzione non possiede i dati è semplicemente fare riferimento ad altri dati che sono questioni abili in conseguenza come ci dice anche il compilatore questa funzione ritorna un tipo preso in prestito che è un borro vario, un riferimento, qualche altro valore ma la firma non dice se questo valore sia preso in prestito da x o da y che conseguenza per essere sicuri che il valore continui a esistere anche in qualunque caso per esempio di a in realtà il punto è l'apostrofo e qui ci puoi mettere qualunque cosa abcd1,3,7,49 qualunque cosa e vanno messi dopo la e che vanno a specificare che quale che sia la variabile che va a essere ritornata ho sbagliato a mettere questi però sarà una variabile che vive abbastanza da arrivare a fine funzione e non viene scartata prima della fine della funzione con età Kona, finne e che 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 l'UU il E E E E E E E E E Grazie.